Criscitiello uomo di Don Beppino su sportitalia.com c'è la sosta non sappiamo cosa scrivere torniamo su un nostro cavallo di battaglia attaccare la Juventus un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video attenzione mettetevi comodi perché questo video è un po' lungo e da capire vi vado a leggere e anche a far sentire le parole di questo personaggio che ci tiene naturalmente sempre a far sapere quali sono gli imbarazzi della Juventus del suo presidente della sua proprietà soprattutto dei suoi tifosi che vengono calpestati ogni volta che questo giornalista apre bocca ed è per questo che se siete giuventini dovete ascoltare attentamente quello che vi dico io quello che vi dirà lui quello che sentirete dalla sua bocca e soprattutto quello che andiamo a leggere perché qui non ci sono due pesi e due misure qua c'è solo ed esclusivamente un lecchinaggio smisurato da parte di alcuni giornalisti tra questi naturalmente non poteva mancare lui nei confronti della squadra di città laggiù che ha anche il benestare della magistratura italiana e non solo a quanto pare torna su un argomento molto spinoso perché giustamente siamo nella pausa delle nazionali e non c'è assolutamente niente di cui parlare anzi c'è qualcuno che ha provato a dire qualcosa ma lui lo ha ripreso e lo ha ripreso proprio con forza perché ci sono certi argomenti che vanno trattati sì ma se riguardano determinate squadre altrimenti bisogna far silenzio un giornalista che dice bisogna far silenzio quando il giornalismo deve informare diciamo che sembra un po' come una cosa nostra tra loro ormai non si capisce più di chi è ma si capisce comunque che è un'attività che poco ha con il le regole del calcio e non solo ragazzi come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo video partiamo immediatamente io vi invito anche ad aspettare la fine per commentare con il vostro pensiero ma come sempre non dimenticate di farlo perché è molto importante ve lo ripeto sempre tra l'altro siete tantissimi quelli che commentano e tra l'altro siete tantissimi quelli che mettono il like e vi ringrazio davvero di cuore per il vostro supporto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto uno su due di quelli che vengono a vedere e i miei video sono iscritti durante la settimana quindi possiamo fare ancora meglio mi raccomando attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati anche qua a volte ci sarà un nuovo contenuto e che cosa ci viene a raccontare c'è un nuovo fallimento per quel che riguarda la juventus e ricordiamo che questo personaggio quando parla della juve ci va sempre giù pesante non si tira indietro e non ha timore soprattutto non chiede scusa come ha fatto in passato perché in passato crescitello è pure scivolato su una piccola buccia di banana ma ha immediatamente chiesto scusa perché a crescitello gli hanno spiegato come funziona e allora crescitello mi sono espresso male scuse a inter famiglia samarzic un disastro mi è stato detto gli è stato raccontato che cosa gli è stato raccontato perché lui potesse rispondere così con direttamente le scuse per quel che riguarda il suo atteggiamento il direttore di sport italia è tornato sulle parole che erano sembrate un attacco diretto nei confronti del club nell'azzurro e non si fa e non si fa però gliel'hanno spiegato immediatamente infatti che cosa dice nella smentita delle sue parole lo stesso crescitello oggi avevo detto qualcosa sull'inter avevo detto che attenzione perché adesso sentiamo che cosa aveva detto avevo detto che la società dell'inter per quanto riguarda le visite mediche e le foto che ha fatto per il giocatore che poi non ha più firmato neanche in terza categoria avrebbero fatto una cosa del genere ragazzi dopo nemmeno 24 ore non intendevo offendere nessuno e se ho offeso qualcuno non era mia intenzione di offendere l'inter e i suoi dirigenti mi sono espresso male posso chiedere scusa anche ai tifosi interisti così Michele Criscitiello durante la diretta della puntata durante la diretta della puntata serale nemmeno il giorno dopo del programma di calcio mercato su Sport Italia da lui condotto è tornato a parlare di Inter il direttore del canale digitale ha fatto ammenda sulle parole utilizzate nel pomeriggio sul club nero azzurro quindi le ha dette il pomeriggio la sera oh scusate 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 mi è arrivata una telefonata e mi hanno spiegato come è andata la situazione e che cosa ci dice e poi andiamo a leggere invece come parlava e come parla ancora adesso perché è l'articolo di oggi per quel che riguarda la Juventus intendevo quando si fanno le visite mediche e poi non vengono tesserati i calciatori sono cose che non si vedono né in prima né in seconda categoria critichiamo quando serve una società ma c'è massimo rispetto per l'Inter che abbiamo trattato sempre con i guanti bianchi l'enturace di Sarmazic ha fatto un disastro il padre ha fatto tutto il contrario di tutto e dicevamo che la società nero azzurra poteva fare di più ma mi è stato spiegato con la manina sulla spalla hai capito? o te lo devo spiegare? ma mi è stato spiegato lì è bastato una volta sola neanche gli hanno parlato due tocchi qua due tocchi qua mi è stato spiegato che è stata la famiglia di Sarmazic che ha fatto un porcaio assurdo quindi io chiedo scusa chiedo scusa a Don Beppino a tutti i tifosi interisti soprattutto a quelli della Curva che già sono venuti a tupuliare dietro la mia porta e sai io c'ho famiglia non sono come quelli della Juventus che sono stronzi e non vengono a bussarmi alla porta invece dovreste andare non a bussargli alla porta ma almeno a fargli sentire la vostra presenza e vedete che l'articolo che vi vado a leggere tra poco non lo scrive e invece non solo l'ha scritto lo ha ribadito più e più volte perché giustamente se ti permetti di criticare ha criticato soltanto un passaggio di calcio a mercato un passaggio di giocatore mi è stato spiegato che certe cose e allora chiedo scusa a dirigenza alla società ai tifosi dell'Inter a tutto umuno nera azzurro all'Andrang chiedo scusa alla magistratura chiedo scusa a tutti c'ho famiglia per favore fatemi non ci faccio più sono pentito sono ma manco Buscetta era più pentito di mia per favore fatemi lavorare questo qua era praticamente le dichiarazioni di Criscitiello Criscitiello che non ha nulla di cui parlare perché c'è la sosta e non ci sono argomenti però si tuffa immediatamente a salvare il soldato in zaghi perché ha parlato Spalletti per quel che riguarda le telefonate io so anche metter giù ha detto se una cosa non mi sta bene e attenzione perché Spalletti a livello di comunicazione è zero non sa quando parlare non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi è una cosa così grave e così delicata per le sue dichiarazioni si dovrebbe a livello sportivo vergognare invece quando era per Agnelli se tu se tu se tu ti fai pizzicare con quelli dell'andrangheta mannaia la pupa se tu ti fai intercettare ricordate Ravezzani ma se voi siete quotati in borsa e vi fate intercettare vi fate intercettare non è che siamo noi che stiamo raccontando segreti ancora che devono essere giudicati dalla magistratura no siete voi che fate schifo lì non c'era il rispetto assolutamente lì Criscitiello portava avanti la 7 la sua guerra e la sua battaglia a favore di Don Beppino e la squadra di Città Laggiù dovrebbe avere il buon senso di stare zitto se proprio vogliamo poi fare i fenomeni innanzitutto nel calcio io vergini non ne conosco come no come no come no hai chiesto scusa alle verginelle hai chiesto scusa per aver detto solo neanche in terza categoria fanno un errore simile come no eh dai perché guarda che ti chiamano di nuovo devi dire non conosco nessuna verginella tranne la squadra di Città Laggiù Sponda Narnia perché altrimenti arriva la telefonatina ricordati che c'hai famiglia e devi lavorare per mantenere la famiglia e ricordati stai attento sempre a quello che dici poi se Spalletti è vergine ed è un santo chiedo scusa Spalletti quando parlo parlo sempre dell'allenatore ma è dell'uomo ti faccio un esempio Spalletti che a livello mediatico a livello social è pari a zero i tifosi del Napoli fanno uno striscione Luciano retta via ultrasindicata ti aspettiamo ingradinata innanzitutto come social vale zero perché non capisce non sa e non si informa che quello striscione non era per lui ma era per un altro tifoso lui cosa fa prima di rimuovere il suo post rimette lo striscione scrive grazie con il cuoricino e quindi strizza l'occhio agli ultras che nella sua testa lo avevano invitato in gradinata allora ci vai addirittura addirittura stai accusando pure Spalletti di avere strizzato l'occhio agli ultras della gradinata mettendo quindi un pochettino di fumo negli occhi di chi si vuole informare facendo capire tutti i tifosi ce li hanno i rapporti con gli ultras tutti però sono pochi quelli che si telefonano e chiedono 200 biglietti e l'altro dice no sangue che cazzo devi fare con 200 biglietti o altri ci ha riempito ha portato direttamente un vagone di biglietti di tenorogno 500 500 perché sei tu e ti voglio bene gli stessi ultras che comunque non puoi non conoscervi perché uno due anni prima adesso non ricordo erano venuti nella tua sala stampa e quindi quello che sto dicendo la sala stampa era di di Spalletti non era del Napoli sto sottolineando non si può avere un rapporto perché in diretto o diretto nel mondo del calcio i rapporti li abbiamo tutti quello che dico è facciamo finta di non essere dei santi di non essere delle vergini perché Spalletti non ha nulla da nascondere ma neanche Simone Inzaghi eh no infatti Simone ha raccontato tutto Simone ha raccontato tutto io tranquillamente parlo con loro e la questura e quest'ora e quest'ora non c'era e ha detto senti non c'è quest'ora facciamo che io sto pulendo le stanze ma più o meno ti fiamo tutti e due intro quindi va bene lo stesso vai via non hai fatto niente parte l'esa non te lo dimenticare parte l'esa che mi hanno detto di dire così vai via che non hai niente da nascondere come Spalletti tranquillo non come quel gran delinquente di Agnelli quello sì che è un delinquente adesso ci arriviamo perché è tutto quello che fa la Juventus minchia cava a Ghire di Traverse e allora che cosa ci racconta il nostro caro giornalista Cricitello su sportitalia.com il fallimento delle seconde squadre e ci va giù anche abbastanza pesante Michele Cricitello su sportitalia.com ascoltate fino alla fine perché qui voglio vedere se chiederà scusa che se che magari anche Identità Bianconera possa prendere questo articolo in considerazione se mai mi guarderanno per magari chiedere a Cricitello di passare un pochettino i toni quando parla della Juventus e ricordarsi che la Juventus rappresenta la maggior parte dei tifosi del calcio in Italia e siamo tutti persone così come voleva chiedere scusa e ha chiesto scusa ai tifosi interessi magari chissà che un giorno no se gli arriva una spiegazione anche da parte di qualcuno della Juventus lui giustamente chiede scusa che cosa racconta c'è la sosta e non sappiamo assolutamente di che parlare perché non si può tirare fuori le discussioni di Don Beppino che ha tre settimane che non si sente e allora torniamo con il nostro cavallo di battaglia e qual è il nostro cavallo di battaglia se non quello di bravissimi spalarmerda contro la squadra di Torino in Italia non servono a nulla che cosa le seconde squadre perché perché la Juventus sta perdendo ha perso due o tre partite consecutive si trova in fondo alla classifica e allora ragazzi come gli aiutini che ha ricevuto la Juventus non vogliamo fare uno scandalo per questo motivo c'è la prima squadra tutta squadra nuova si trova a terzo posto a un punto dall'Inter a tre punti dal Napoli non si può parlare di crisi giustamente anche perché l'arbitraggio è stato un pochettino sappiamo la Marotta League però sempre a favore della Juventus e quindi per quel che riguarda invece le altre cose possiamo attaccarci al macello e allora ci attacchiamo al macello qual è il macello le Juventus women sono state aiutate quindi il campionato è stato falsato totalmente ma poi c'è il fallimento perché la Juventus diciamocela tutte pensi che con la seconda squadra con il J Medical con il J Hotel con lo stadio e con tutte le proprietà pensi di aver fatto un investimento buono ah non ti permette nemmeno a pensare perché qua c'è Criscitiello lui sì che lo sa perché possono servire al singolo club che trae beneficio da qualche plusvalenza ma in Italia come sempre non riesce neanche a fare copia e incolla dall'estero punto uno e ce le spiega giustamente Criscitiello lo fanno se lo fanno in tre non è un progetto ma un misero tentativo di esplorazione la serie C apre le porte ai club di A solo perché pagano un milione di iscrizione e non 140 mila euro come tutti gli altri quindi se lo fanno in tre è la colpa di quei tre non degli altri che non hanno i soldi per farsi la seconda squadra e per portarla avanti perché ci vuole ci sono dei costi di gestione per portarla avanti e poi pagare un milione di iscrizione no è il fallimento di quei tre che la stanno facendo pensa a te non è il fallimento di quelli che non potrebbero nemmeno iscriversi però se quelli che non ti possono nemmeno iscriversi sono quelli che te la devo spiegare no no non c'è più bisogno non c'è più bisogno chiedo scusa a tutta la famiglia chiedo scusa a tutta la famiglia e quindi già per questo è un fallimento sono solo tre ma poi continua se pagano un milione di iscrizione non 140 mila euro come tutti gli altri è già è grave perché toglie il punto a qualcuno anzi il posto a qualcun altro se non hai strutture stadi è inutile che fai il passo più lungo della gamba milan atalanta juventus giocano sui campetti malconci di serie d ed eccellenza quindi è una colpa sempre della juventus del milan l'atalanta se ancora le strutture non ci sono per tutti però io quando vedo giocare la juventus a volte la guardo non vedo tutti questi campetti malconci se contiamo che San Siro a volte a volte quando non lo trattano per una settimana diventa un campo di patate però non ti ho mai sentito dire che il campo di San Siro a volte diventava impraticabile nella storia assolutamente perché lì giustamente ricordiamo che c'è David Amagna e questo lo possiamo capire punto 3 i giovani è più facile bruciarli che valorizzarli certo ogni anno su circa 100 giovani qualcosa di buono tipo uscire ma vedete quelli che si perdono io vedo sinceramente quelli della juventus e quelli della juventus hanno portato sia plus valenza perché sono calciatori veri che valgono di più rispetto agli anni precedenti ma calciatori veri non quelli che li dai per tot milioni e poi non li senti più e non li vedi più per qualche riguardo alle altre squadre non lo so però stanno appena iniziando e poi caro mio si perdono è normale che si perdono è la storia del calcio è sempre successo ma andiamo avanti perché quarto la serie c deve essere il campionato di provincia ed ecco qua il calcio del popolo dove l'Atalanta il Milan e la Juventus non possono togliere il sogno a un club come il Nardo che vince due volte di seguito i playoff ed è ancora in serie d eh sì eh sì non si possono fare queste cose qua cioè queste tre società sono criminali perché fino a quando la squadra di Don Beppino non fa la seconda squadra lui non può dire che perché c'è qualcosa di si deve parlare di qualcosa e di che cosa si deve parlare ed ecco che ci arriviamo se sei arrivato fino a qui sei un supereroe perché riesci alla fine a chiudere il cerchio cosa che gli altri non potranno fare attenzione perché la prima a far partire il progetto per esigenze personale e non di sistema è la Juventus che a Trapani non prende charter o hotel e fa dormire a terra in aeroporto i propri calciatori con la tuta della Juventus di rappresentanza attenzione follia che nel 2024 il club più importante d'Italia non si può permettere neanche nella categoria pulcini però una cosa l'ha detto finalmente che la Juventus è la società più importante d'Italia lo so che l'hai detto per poi sminuirla perché anche fai dormire i tuoi calciatori lì perché tu non potevi sapere che l'aereo sarebbe stato rimandato cancellato il volo non potevi saperlo che a mezzanotte non trovavi un altro albergo non potevi costruirti un albergo non potevi chiamare un charter e farlo venire a prendere i calciatori no dovevi aspettare il volo dell'indomani mattina alle 6 in aeroporto pensa te a Trapani dovevi trovare soltanto un albergo per 50 persone o un charter e invece che figura da pezzenti perché come dice lui il club più importante d'Italia non si può permettere neanche nella categoria pulcini figuriamoci in campionato professionistico sintesi rischia di retrocedere in D in quel caso i calciatori si svincolerebbero così come succede con le altre società il Milan è partito con un progetto di fretta e furia e dal nome attenzione qua cari milanisti se siete arrivati fino a qua dal nome dal nome dal nome in giù ha sbagliato tutto perché si chiama brand Milan futuro non si può né leggere né sentire c'è uno schifo totale la Juve una merda proprio dei tossici che dormono per terra morti di fame che non hanno nemmeno i soldi e nemmeno l'organizzazione perché è un fallimento non come l'Inter che invece non la fa ed è tranquilla perché noi siamo i migliori che non facciamo tutte ste cagate che fate voi ma che J Hotel ma che stadio di proprietà ma che J Medica ma che tutta la seconda squadra la squadra delle femmine ma che stai dicendo ma meglio l'Inter che fa un cazzo non paga i debiti non paga niente c'ha a che fare con indranghettisti vende biglietti ci facciamo qualche soldino almeno questo è quello che viene fuori poi non so se i soldini li fa l'Inter o li fanno solo indranghettisti vorremmo vedere le intercettazioni che vengono fuori ma giustamente a fare il dossieraggio se si parla della Juventus se si parla dell'Inter ha fatto i cazzetoi e da qui qui non ci deve arrivare se vuoi lavorare Nicola hai capito? oltre a due spiegar che si parla di che si parla di che si parla di